LG presenta il primo tv OLED curvo al mondo, una smart tv 3D che sicuramente è il simbolo di una nuova era di tv in termini di qualità e formato del display. Parliamo innanzitutto del design. LG in questo caso si supera realizzando un tv davvero stupendo. Lo spessore dello schermo è di soli 4,3 mm, un risultato davvero incredibile tanto da poter paragonare lo spessore a quello di un foglio di carta. Fantastica la scelta dei materiali, sul retro si nota la perfetta finitura in fibra di carbonio che oltre ad impreziosire il tutto garantisce una maggiore durevolezza e brillantezza del tv. Sulla parte frontale l'eleganza è evidenziata dalla base trasparente che si fonde con lo schermo realizzando un unico elemento di design ed inoltre alloggia il sistema audio. La parte posteriore come al solito è dedicata alle interfacce, diverse sono le connessioni disponibili. Ci troviamo di fronte ad un dispositivo che vanta un'ottima multimedialità. Lo schermo full hd di questo televisore presenta un grado di curvatura calcolato in modo da fornire all'occhio umano la stessa distanza da qualsiasi punto dello schermo. In questo modo si potrà godere di un'esperienza di immersività senza precedenti. Le immagini riprodotte sono inoltre ottenute da pixel autoilluminanti senza la necessità di utilizzare alcuna retroilluminazione. I pixel controllano singolarmente la propria luminosità garantendo un rapporto di contrasto infinito. Con questa tecnologia LG ha migliorato ogni cosa. Il tempo di risposta del tv OLED è infatti centinaia di volte superiore a quello dei tv LED come lo è anche la resa dei colori. Le immagini risultano chiare e nitide e soprattutto prive di alcun effetto scia. La tecnologia pixel a quattro colori di LG abbinata all'accurato algoritmo di controllo di colori color refiner consentono di avere un angolo di visione perfetto senza perdita di contrasto e luminosità e nello stesso tempo ottenere il massimo in termini di qualità delle immagini e riproduzione dei colori. Il tutto si traduce in un'esperienza di visione senza precedenti. Non dimentichiamo infatti che stiamo parlando di un tv cinema 3D. Ogni caratteristica fusa insieme permette di ottenere un dispositivo unico tale da garantire un'esperienza cinematografica in 3D estremamente realistica. Basterà indossare i pratici occhiali polarizzati privi di batterie per sentirvi come al cinema. Questo televisore offre il massimo della tecnologia in termini di qualità video ma non è da meno per quanto riguarda il comparto audio. Gli speaker sottilissimi realizzati in materiale ceramico alloggiati all'interno della base sono di altissima qualità e permettono una resa dei suoni senza precedenti. Le funzioni Smart TV sono sfruttate al massimo grazie soprattutto al telecomando Magic Remote con il quale sarà possibile spostarsi fra i menu e le schermate con estrema facilità quasi come se si utilizzasse un mouse ottico. Infinite sono le funzioni disponibili. Sarà possibile navigare su internet, guardare film o ascoltare la musica in maniera davvero semplice. Inoltre grazie alla modalità wireless sarà possibile condividere tutti i contenuti con i tuoi smartphone e tablet di casa. Il sistema è davvero scattante e grazie al tasterino virtuale o al riconoscimento vocale sarà davvero facile ed intuitivo prendere possesso di ogni funzionalità offerta da questo televisore stando comodamente seduti sulla poltrona di casa. LG in sostanza si supera davvero e ci regala un dispositivo unico, un tv che racchiude il meglio della tecnologia ed adatto a chi pretende il massimo per l'intrattenimento casalingo.